che porteremo avanti, speriamo, con la fiducia nostra e loro nel corso degli anni porteremo allo stadio tanti gadget, tante sorprese per i più piccoli ma non solo saranno distribuite cappellini, magliette e tante altre piccole cose che ricorderanno ai nostri tifosi che ci siamo, che siamo qua per lavorare e siamo un'ottima opportunità di visibilità per le aziende che ci sostengono.